Non si sblocca la situazione in Niger, scaduto l'ultimatum con cui l'Ecoas, comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, chiedeva ai colpisti di rilasciare il deposto presidente filo occidentale Basuma e di ristabilire lo status quo. Ma la risposta dei ribelli è stata la chiusura dello spazio aereo e di un non precisato preschieramento per un intervento in due paesi dell'Africa centrale, senza specificare quali. Intanto peggiorano le condizioni in cui è tenuto l'ostaggio. Secondo una fonte anonima, il leader deposto resta bloccato con la sua famiglia nella residenza privata senza elettricità né acqua. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS